Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Nelle ultime settimane, l'attenzione pubblica si è concentrata sul tragico caso di Liliana Resinovice, una donna sessantenne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio dell'anno successivo. Nell'edizione odierna, datata 19 marzo 2024, del programma Mattino 4 condotto da Federica Panicucci, si è affrontato il tema con Claudio Sterpin, ospite in studio e presunto amante di Liliana. Durante un'intensa conversazione, è emerso che Sterpin e Liliana avevano mantenuto contatti più frequenti di quanto si potesse pensare prima della scomparsa, scambiandosi sette telefonate e numerose altre forme di comunicazione, per un totale di 17 chiamate, di cui Liliana era stata l'iniziatrice in 14 casi. Durante una di queste chiamate, particolarmente esaminata da Panicucci, Sterpin ha rivelato che avevano discusso apertamente, addirittura facendo piani per incontrarsi il giorno successivo. Tuttavia, di fronte alla richiesta di ulteriori dettagli sulla conversazione, Sterpin ha confermato che non c'era nulla di così significativo da riportare. Questa complessa serie di eventi e rivelazioni ci invita a riflettere sulla intricata natura delle relazioni umane e sul dolore che la perdita di una persona cara può generare. Cosa ne pensate di questi nuovi indizi? Potrebbe essere stato lui? Scrivi un commento.